Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. Il celebre cantautore romano Claudio Baglioni si esibirà in concerto questa sera, 13 ottobre e domani, 14 ottobre, a partire dalle ore 21, presso il velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di oltre 100 artisti, tra musicisti, coristi e ballerini. Durante l'esibizione saranno eseguite ben 38 canzoni, tra cui Avrai ed E tu due e tre suoi grandi classici, che sicuramente faranno emozionare il pubblico presente. L'evento ha già generato un massiccio interesse da parte dei fan provenienti non solo da Palermo, ma anche dal Nisseno e dalle altre zone dell'entroterra siciliano, che si preparano a partire per partecipare a questo atteso concerto. Per garantire un'esperienza accessibile a tutti, sono state predisposte specifiche postazioni per le persone diversamente abili sotto il palco, posizionate lateralmente per consentire un facile accesso alle vie di fuga. Queste postazioni sono state scelte in modo da garantire un'ottima visibilità. In aggiunta alcune postazioni riservate sono state collocate nella prima fila della tribuna, creando un'area dedicata. L'ufficio competente del comune di Palermo ha pianificato anche la creazione di una zona a parcheggio riservata ai diversamente abili, con almeno dieci posti auto riservati nella via Renato Gattuso o nelle vicinanze della biglietteria. Questo intervento mira a rendere l'evento accessibile e godibile per tutti i partecipanti, garantendo un'esperienza inclusiva e piacevole. E' chiare l'essere d'estate, il mare giochi le fatte, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, un poco quando risate, far l'amore giù al paro. Ti amo davvero, ti amo davvero, ti amo davvero.